salve a tutti e a tutte in questo video tutorial vedremo come effettuare il primo accesso a g suite for education prima di tutto due parole su g suite for education l'espressione indica la serie o suite di strumenti e di servizi che google ha realizzato appositamente per il mondo della formazione l'education per effettuare il primo accesso alla g suite for education è necessario disporre delle credenziali ovvero di due dati che consentono l'accesso autorizzato alla suite e che vi sono stati inviati per mail dalla segreteria didattica il primo dato è lo username cioè il codice identificativo dell'utente che per i docenti è strutturato in questo modo nome cognome punto di che sta per docente e chiocciola liceo enrico medi punto education per esempio cassandra rossi punto di et chiocciola liceo enrico medi punto education la seconda credenziale d'accesso è la password cioè una chiave d'accesso iniziale che dovrete modificare in seguito e personalizzare prima di effettuare il nostro primo accesso un consiglio utile per gestire separatamente la g suite for education istituzionale cioè quella fornita e gestita dalla scuola è opportuno usare un browser cioè un programma per navigare in internet diverso da quello che utilizziamo abitualmente per le nostre attività personali in rete compreso il nostro account di posta elettronica in parole povere il consiglio è questo uso chrome il browser di google con il mio account personale di google per le attività che non riguardano strettamente la g suite della scuola utilizzo invece un altro browser per esempio firefox con l'account istituzionale quello che mi consente di usare la g suite della scuola ma questo è solo un consiglio dal nostro desktop selezioniamo il browser o programma per navigare in internet che intendiamo utilizzare ci troviamo subito in ambiente google ma se così non fosse basterà digitare nella stringa in alto l'url o indirizzo del sito di google all'interno della pagina di google ci posizioniamo sul tasto accedi in alto a destra cliccando su accedi ci apparirà una schermata relativa all'account qui ne vedete diversi perché ho già utilizzato questo browser con diversi account in ogni caso basterà selezionare l'opzione utilizza un altro account nello spazio riservato all'indirizzo email o numero di telefono digiterò lo username istituzionale e cliccherò sul tasto avanti a questo punto inserirò la password che mi è stata fornita dalla scuola e che utilizzerò solo ed esclusivamente per il primo accesso come prima cliccherò sul tasto avanti l'operazione che abbiamo eseguito fin qui ci ha consentito di creare il nostro account istituzionale di google istituzionale significa che l'insieme di funzionalità strumenti e contenuti attribuiti a un nome utente non è fornito da google direttamente all'utente ma tramite un istituzione in questo caso la nostra scuola pertanto l'account istituzionale è diverso da quello personale e va gestito separatamente direttamente Grazie per la visione!